L'altra sera sono stato alla Royal Baby, le operaie mi han spiegato la situazione, che la loro padrona Isella Calzolari ha ridotto l'orario di lavoro. Vuole smobilitare le operaie e licenziare, ce ne sono tante fuori, sono divise e costa un poco, e le lotte non le sanno ancora fare, il lavoro lo do a loro, voi potete anche andare, le operaie hanno risposto con i dieci comandamenti. Io sono il tuo padrone, siamo le tue operaie, tutti i padroni che avrai saranno come me, combatteremo tutti i padroni come te stesso, non scioperare, se necessario sciopereremo, scopa per me fino alla tomba, arriveremo alla tomba ma per vecchiaio forza maggiore, non pensare tu lavori, io penso per te a sfruttare, per lavorare occorre uno braggio cervello, non contrattare lo fare in vano, la contrattazione è la valvola di sicurezza dell'operaio, rispetta i crumiri come te stesso, i crumiri sono operai come noi ma da svegliare, onora le lavoranti esterne che ci mantengono, non è da onorare chi senza lottare si lascia sfruttare, non perquisire la mia macchina o quella degli altri, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, non interferire nella mia vita privata, la tua vita privata rende la nostra condizionata, oh padrona calzolari non abbiamo più paura, le tue bimbe sono cresciute, ora usano il cervello, ordino, comando e voglio non ci intimorisco in più, oh padrona calzolari ora dovrai tremare tu